Bene, salve a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta sul canale di MrChetico87, alias Francesco Barni. Fresco di taglio di capelli dal parrucchiere, taglio si fa per dire più una sistemata, ritorniamo in grande stile a fare i videoacquisti. Cercherò di essere il più breve possibile perché voglio starci, sono tante le cose, voglio starci dentro, sono acquisti fatti via Amazon, sono acquisti fatti in fumetteria, sono acquisti fatti in edicola, insomma i saldi di gennaio ci hanno completamente accerchiato e come al solito ci siamo fatti prendere dalla mania di comprare questo, questo e quell'altro, ma sempre con cose pieno di qualità. Partiamo subito e partiamo dal reparto DVD o meglio Blu-ray, anche se c'è anche qualche DVD, facciamo vedere le offerte di Amazon, per cui abbiamo preso, in queste sono contenute, tre titoli per 15 euro più cinque titoli per 20 euro, quindi ragazzi direi che ci siamo veramente tanto per, forse anche un 3 per 2. Comunque, partiamo con un classico Disney, il Gobbo di Notre Dame, mancava tra i Blu-ray, tra quelli che ho, non è uno dei miei preferiti, dei classi Disney, però devo dire che è stato uno dei primi visti al cinema, da parte mia, e non mi era dispiaciuto, interessante musica tra l'altro con una sonora molto molto bella. Tartaruga Ninja fuori dall'ombra, il secondo film delle Tartaruga Ninja che, a dire di molti, soprattutto dalla critica, viene vinto come il ritorno del femminismo nelle Tartaruga Ninja, però devo ancora vederlo, questo lo ammetto, non siamo andati a vederlo al cinema, quindi ho aspettato che avesse un prezzo abbordabilissimo e ho deciso di comprarlo per la collezione. Parliamo sempre di mondo Disney e restiamo sul, invece andiamo sulla Pixar, non restiamo, no? Ralph spacca tutto, guardate questo, seppur non adori molto la CGI e soprattutto non mi piace in maniera preponderante la modernità, devo dire che Ralph spacca tutto anche solo per l'unione di moltissimi personaggi a noi noti nel mondo della videoludicità, quindi dei videogames, piaceva molto. E andiamo avanti con la Disney, abbiamo preso anche La Sirenetta e Alice nel Pese e Meraviglia in due diverse edizioni di La Verità, perché questa è l'edizione Diamond speciale e invece questa è semplicemente l'edizione a Blu-ray normale. Sappiate che molti di questi Blu-ray Disney contengono tutto ciò che voi avete sulle vostre edizioni DVD più in aggiunta qualcosina, per esempio si parlava del Blu-ray di Biancaneve visto l'altro giorno dopo Natale in cui abbiamo avuto la possibilità di vedere delle scene mai viste semplicemente abbozzate, disegnate, molto molto interessante. Dopodiché per il ciclo film classici che piacciono a me, anche se sono delle cagatine magari, se pensate che non abbiano fatto Gran Scalpore, non mi interessa queste scelte, non mi interessa, queste sono sempre scelte mie personali, insindacabili, si può discuterne ma sono insindacabili. Dante Spicche, La foglia della montagna, bellissimo con un Piers Brosnam, secondo me in grande spoiler che per la parte non così protagonistica come al solito con questo tecnico dei terremoti, fantastica, fantastica, anche abbastanza direi, come posso dire, commovente ecco in tutto quello. Super classici, se vi dico Dustin Hoffman, Meryl Streep, vincitore di 5 premi Oscar, Kramer contro Kramer, addirittura con cofanetto, anche questo voi direte ma come non ce l'avevi Frank? No, non ce l'avevo nella mia videoteca, visto più volte va rivisto secondo me perché comunque è un film che ha fatto storia, anche dal punto di vista, chiamiamolo così, non solo familiare ma anche dal punto di vista forse legale, dei termini. Andiamo avanti, un altro vincitore di ben 5 premi Oscar, American Beauty. Adesso vi dico assolutamente che La bionda, che adesso non mi ricordo il nome, non mi ricordo il nome dell'attrice, comunque mettetelo nei commenti perché non me lo ricordo. Comunque tutti noi maschietti siamo andati a vedere al cinema questo film perché c'era lei credendo che fosse tutto improntato su questo. Invece c'è una forte denuncia sociale, si parla di temi importanti come l'omosessualità e non solo, l'omosessualità repressa e rifiutata da persone che sarebbero insospettabili. Si parla di crisi matrimoniali, di donne in carriera, di uomini disillusi, di sessualità, si parla di un po' di tutto, molti temi, anche la sessualità tra i giovani. Per la serie Gli Indimenticabili faccio vedere che ci sono persone che hanno proprio un feticcio totale per queste copertine verdi, invece la linea degli Indimenticabili, di John Carpenter e si vivono questo horror futuristico molto particolare. L'ho preso solo perché è un cult, adesso vi dico è un cult dell'88, quindi un cult della fine degli anni 80, l'ho dovuto prendere, l'ho dovuto prendere e non l'ho mai visto, lo ammetto, quindi a presto con le visioni. Andiamo avanti, forse di questo avevamo già parlato, comunque lo faccio vedere lo stesso. Il Dottor Stranamore, ovvero come imparai non preoccuparmi ad amare la bomba, interessante questa commedia a sfondo bellico. Henry Fonda, La parola ai giurati, vabbè questi sono quei film proprio vecchio stile, addirittura in bianco e nero, 96 minuti di durata, già sembrano tanti solo del 57, pensate, del 57. Paure e delirio a Las Vegas con Johnny Depp e Benicio Del Toro, che questo ha fatto storia, signori, veramente storia. Stiamo cercando di recuperare un po' tutti i classi per fare una videoteca più o meno perfetta, per avere tutti quei film che bisognerebbe avere. Un altro film che mi è piaciuto veramente, veramente tanto è con Mad Demon, Ginna Paltrow e Jude Law, scusate, un giovanissimo Jude Law, Il talento di Mr. Ripley. Guardate, questa secondo me è una delle interpretazioni migliori di Mad Demon, perché mi sembra quasi incredibile, come lui, è ovvio che un film però sia riuscito a montare tutta questa cosa senza che nessuno si accorgesse fino alla fine. Nota figura di merda di... con Sergio Rubini, della polizia italiana, come al solito. Brava gente. Andiamo velocissimi. Detox con Sylvester Stallone per la saga di Sylvester Stallone, mi mancava e quindi ho avuto a prenderlo. Dirty Dancing, su questi non mi soffermo perché già li conosciamo. Casablanca, mitico Jeffrey Bogart, Ingrid Bergman, fantastico. Paul Harry, bellissimo. I Cowboys con John Wayne e i Magnifici 7 per il ciclo, diciamo così, un attimino di western, perché anche su questo ci stiamo facendo una cultura abbastanza interessante. Dopodiché passiamo alle serie televisive. Abbiamo la prima stagione in Blu-ray dei Borgia. Guardate che questo ha un prezzo abbastanza stracciato. 11,99 euro. Vi consiglio di comprarla se siete amanti della storia e anche un po' amanti delle perversioni, perché logicamente vi fanno vedere tutto il comparto sessuale in cui il Papa Alessandro Borgia, 1400, insomma, viveva. Selle TV a meno di 10 euro, signori, The Big Bang Theory, stagione 7 e stagione 8 completa. Piano piano stiamo arrivando al fondo del barile, stiamo arrivando a recuperare la decima, però aspettiamo un po' perché poi sennò costano troppo. Fantastica la nostra mitica Penny, anche qua con i capelli corti. E il mitico Leroy la devo stare, nonché Sheldon Cooper, un mito abissale. E quindi, aspettate un attimo, mettiamo qua e qua. How I Met Your Mother, nona stagione, quindi abbiamo completato finalmente le stagioni di How I Met Your Mother. Io vi consiglio di guardarle tutte, perché sono molto carine e servono anche a staccare un attimino il cervello. Devo dire che il finale è qualcosa di veramente orrendo. Potevano farlo in mille modi diversi e hanno sbagliato completamente. Cofanettone per chi non se lo aspetta. Sex and the City, per la modica cifra di 21,99 euro. Tutte e sei le stagioni di Sex and the City. Ora voi direte cosa ci va a fare anche con Sex and the City. È un telefilm adolescenziale che però aiuta, diciamo così, anche l'uomo a capire un attimo il mondo della donna e come vede la donna agli uomini. Quindi molto molto importante, secondo me, da avere. E per il ciclo film esistenzialistici che vanno visti una volta nella vita, almeno, ma da Daioh, tradotto letteralmente con non ancora, il compleanno, l'ultimo film di Akira Kurosawa, 1993. Guardate, due ore che però non passeranno così lente. Vi piacerà, secondo me vi piacerà, siete esistenzialisti. Questo rispetto da parte degli ex alunni per questo professore che gli ha insegnato non solo la cultura ma anche a vivere nel secondo dopoguerra. Numero 40, finalmente abbiamo finito, i Puffi, i Puffi, un bambino tra i Puffi era l'ultimo, vedete qua. Numero 40, è l'ultimo uscito, finalmente abbiamo completato questa serie che era veramente esagerata, secondo me, comunque, solite tavole a colori, sono contento di aver completato questa bella cosa. The Savage Sword of Conan, quindi la spazio selvaggia di Conan, il primo numero, dopo non penso che andremo granchi avanti, però, tra le chiodi russi, in edicola, ovviamente, sanno che stai finendo una cosa e iniziano un'altra, sono 60 volumi, 60 uscite, non lo prenderò assolutamente, però un po' alle origini di Conan, sia come tavoli, sia come fumetti, almeno il primo, per farsi un po' di infarinatura e di notizie, visto che sono un grande amante di Iman and the Masters of the Universe, ovviamente sì. Ultime cose, per esempio, in fumetteria, vabbè, come al solito, in regalo, la rivista Anteprima e Direct, qui abbiamo addirittura Il Corvo, come fumetto in prima pagina, Memento Mori, tutti i manga più attesi del 2018, se ne parlerà un po', insomma, tutti e due omaggio, logicamente, e, come al solito, ringraziamo adesso la fumetteria Magman per averci fatto un bello scontone, averci regalato le buste, per imbustare i quattro numeri di l'emblema di Roto, che, quattro numeri con cui sono andato avanti, numero 9, eccolo qua, numero 10, scusate, ho sbagliato la copertina, numero 10, sono tutte molto belle, eh, queste copertine, devo dire, tra l'altro, che questa edizione mi piace parecchio, anche se deve mettere 8 euro, 8 euro l'uno, logicamente, 8 euro l'uno, però, quindi 9, 10, 11, 12, anche se devo dire che, con lo sconto, sono già più abbordabili, perché se voi pensate, quasi tutti, vuol dire che, eh, un euro è qualcosa di sconto, non è, non è affatto male, andiamo avanti con il numero 2, di, della Don Rosa Library, fantastico, eh, Zio Paprino e Paprino, in questo, perché c'è la dicitura Zio Paprino e Paprino, perché in realtà, proprio in America, è Uncle Scrooge and Donald Duck, eh, a parte le cover arti dietro le quinte, eccetera, eccetera, abbiamo delle storie, eh, fantastiche, tipo, eh, Paprino e l'albero di Natale, oppure, Zio Paprino e l'ultima slitta per Dawson, ha fatto storia questa, veramente, eh, Paprino e Pulizioni Costine, insomma, devo dire che se lo fanno star a pagare, perché 8,90 euro è un volumetto che, adesso vi dico quante pagine ha così tanto per, tanto per dirlo, cioè a 114 pagine, 114 pagine, 8,90 euro, è livemente esagerato, ma va bene, ehm, sono cose che per noi amanti segniani vanno prese e la panina ha capito. Ultimissimo, ultimissimo, ve lo faccio vedere, è sbustato, perché anche se abbiamo visto ce l'abbiamo, per la modica cifra sarebbe 20 euro, ne abbiamo pagato 17. eccoci qua, Dragon Ball, Dragon Ball Celebration Book, Star Comics di Akira Atoriana, Manga Side, Book Side, ecco qua, praticamente, Book Side vi fanno vedere, a parte rubriche, interviste interessanti, proprio per celebrare, insomma, i 25 anni, illustrazioni, copertine, le varie edizioni, spiegate, non spiegate, eccetera, vedete che qua c'è un po' di tutto, anche i vari, i vari autori che disegnano, vi faccio vedere che disegnano Dragon Ball, per esempio che abbiamo Zero Calcare, non ne ho visto, Alessandro Vitti, così, non do per dire, ma soprattutto ce n'era uno bellissimo, ma vabbè, lasciamo perdere, Sio, lasciamo perdere veramente, Sio, mamma mia ragazzi, mamma mia, Errecchioni, tanto per dire, ma soprattutto Milo Manara, con questa bulma che farebbe impazzire chiunque, ma dall'altra parte, bellissimo, manga side, manga side, perché, faccio vedere qui, a parte questa, questa bella cotola pieghevole con questo disegno manga, così, praticamente Dragon Ball full color, sono praticamente le primissime tavole dell'edizione che uscirà di Dragon Ball, cioè la Dragon Ball full color, saranno tutte, tutte, tutte a colori, le tavole ovviamente, come già disse il buon Domenico, la risa sarà diversa, però, cioè, ragazzi, fantastico vedere a colori una cosa che a colori l'abbiamo solo sognata per tanto tempo. Io vi saluto, vi rimando al prossimo video, andate poi a guardarvi ogni tanto qualche videino vecchio, se volete, che mi fa sempre piacere, anche se vengono fuori i commenti su cose a più stile. Torneranno anche i video recensioni, appena avremo finito la lettura approfondita, per esempio, di Rainbow, altri manga, altri comics. Ho intenzione di far partire una piccola rubrichina dove si parlerà di politica sotto le elezioni, perché è anche questo il mio lavoro, quindi devo fare anche quello, e un appuntamento che sarà più o meno fisso, anche per quanto riguarda i comic book, i comics americani, quindi il comic book in sé, dopo una lettura magari ne parliamo insieme. Intanto questo così. Seguiteci perché ci sarà, forse tra un mesetto un po' meno, una live, torneremo a fare una live con Rieslen, finalmente direte voi, dove parleremo dei progetti Disney Pixar and Company, nonché Fox ormai, per quanto riguarda i film, appunto Disney, Lucasfilm, Fox and Company, quindi seguiteci. Un caldo saluto dal vostro Francesco Barni, alias Misteriettivo87.